Radio Radicale, siamo con Francesco Lollobrigida di Fratelli Italia per parlare un po' di quello che sta succedendo nella maggioranza. Abbiamo visto che insomma il governo non riesce a trovare una strada su IRAP e altri provvedimenti che riguardano il cuneo fiscale. Fratelli Italia ha fatto una proposta molto chiara di tagliare il reddito di cittadinanza. Allora, che cosa farà il Premier e soprattutto vede anche il rischio di una crisi il 21 quando Draghi verrà qui dopo il terremoto delle amministrative? Allora, cosa succede in maggioranza? Uno dovrebbe chiedere alla maggioranza, uno dovrebbe chiedere a me che sta in opposizione. Siamo fieramente contrari a un governo inefficiente, incapace, non tanto e non solo per la sua composizione, ma anche quella brillano personaggi inadeguati come Di Maio, come si è dimostrato il Ministro Lamorgese, come è stato il Ministro Speranza, ma al di là di questo anche per una impossibilità evidente dovuta a una maggioranza divisa sui temi, sui programmi che hanno presentato agli elettori e che stanno emergendo, ampliando quelle divaricazioni che ci sono sul fisco, sulla giustizia, sulle politiche di carattere internazionale. E allora bisognerebbe tornare al voto il prima possibile. Il 21 in aula arriva la richiesta di posizionamento su un tema strategico per ogni governo che è il posizionamento di una nazione a livello internazionale. Si deve ragionare della credibilità dell'Italia più che di quello che succede in Russia e in Ucraina, perché quello che succede in Russia e in Ucraina non è influenzato da quello che scegliamo di fare in Italia. le cose andranno avanti a prescindere dal nostro voto in un senso o nell'altro, ma non ha questa rilevanza il ruolo dell'Italia sulle questioni di carattere internazionali. Però potrebbe servire a fare chiarezza, perché tante forze politiche stanno girando le piazze, millantando posizioni che probabilmente non terranno in maniera coerente in aula. Noi non salveremo il governo Draghi. Alludeva a Conte? Alludeva a Conte in particolare, ovviamente. Il Movimento 5 Stelle continua a prendere in giro i cittadini in maniera vergognosa. Da una parte hai Conte che dice che è contrario alle politiche del governo rispetto a quanto si sta facendo coerentemente col documento firmato e approvato in Parlamento qualche tempo fa, e poi il suo ministro degli esteri, Di Maio, espressione del suo partito, invece agisce esattamente all'inverso. Per cui è un metodo per rubare i voti ai cittadini, come hanno già fatto in passato. Il Movimento 5 Stelle brilla da questo punto di vista. È il trasformismo fatto forza politica. Detto questo, invece, sulla vicenda degli sprechi, della necessità di tagliare il cuneo fiscale, è un'emergenza in Italia. Abbiamo il costo del lavoro più alto in Europa. Bisogna abbatterlo. Si può abbattere esclusivamente riuscendo a diminuire l'imposizione fiscale che supera ogni livello di guardia. Con quali soldi farlo? Con una parte del reddito di cittadinanza, perché vogliamo essere chiari su questa vicenda. Noi pensiamo che chi non può lavorare vada aiutato. Vadano aiutati gli invalidi, vadano aiutate le persone che non sono in condizione di lavorare o non trovano oggettivamente nessuna possibilità di sopravvivere attraverso lo strumento principale che è il lavoro. Vadano alzate le pensioni sociali. A queste persone possiamo dare anche più di quello che percepiscono attualmente. Ma quelli che possono lavorare devono essere messi in condizione di farlo. Per farlo bisogna creare lavoro e non si crea il laboratorio, si crea con il sostegno alle imprese. Il sostegno alle imprese che non deve essere un sostegno a fondo perduto, attraverso i bonus, ma semplicemente diminuire quella tassazione che soffoca le imprese, in particolare sul costo del lavoro. Più costa il lavoro e meno persone tu sei in grado di assumere. Diminuiamo quello e permettiamo alle aziende di assumere e dare ai tantissimi cittadini italiani che lo vogliono un lavoro. Lei sarebbe favorevole al salario minimo e cosa pensa dell'accusa di Bonomi rivolta al Ministro del Lavoro Orlando che non avrebbe mai formulato una proposta? Allora, alzare i salari è un obiettivo ovviamente di tutti, ma anche ci mancherebbe. Questo deve corrispondere a una crescita economica. Quando in Italia, Agnelli, a fine degli anni 70, durante un periodo di alta tensione, con il terrorismo, con mobilitazioni sindacali che impedivano alle imprese di crescere, decise di indicizzare il salario della Fiat, portò a far crescere l'inflazione in Italia. Fu uno degli elementi che portò alla crescita inflattiva. Quindi guadagnavi di più, ma i soldi che avevi in tasca valevano di meno. Quindi un meccanismo economico che non porta lontano. Allora, come si possono alzare i salari? Si possono alzare intervenendo sul cuneo fiscale. Devi riuscire a dare la possibilità agli imprenditori di pagare di meno in termini di tasse e pagare di più le persone che lavorano all'interno dell'azienda, producono e fanno crescere l'economia. La vicenda del salario minimo può essere guardata, ma deve essere guardata come dato complessivo. Quando si fanno i paragoni con le altre nazioni si dice in Germania c'è il salario minimo garantito, in Italia invece no. Ecco, ma facciamolo su tutto il costo del lavoro, perché in Germania il costo del lavoro non è quello che si ha in Italia. Quindi noi siamo ovviamente per aumentare i salari ovunque sia possibile, senza distorcere il mercato del lavoro e senza aprire una fase inflattiva che porterebbe un danno e un disastro proprio per quelli che avrebbero un virtuale aumento e un reale inferiore potere d'acquisto. Due ultime questioni. Il centrodestra dopo le amministrative. Ci sono state delle realtà dove il centrodestra si è presentato diviso. Allora, siete preoccupati da questo andato? Crede che questa divisione sia anche fatta per cercare di limitare il successo almeno sui sondaggi che sta ottenendo la Meloni, che diciamo è il primo partito attualmente del centrodestra. Poi le volevo chiedere, il referendum va a votare? Vota che ne pensa? Sì, sì, il referendum a voto mi sembra scontato, le nostre andranno a votare. Ovviamente non sono temi che noi pensiamo devono essere affidati alle politiche referendare in particolare. c'è un Parlamento, la cosa che un po' ci ha fatto sorridere di questa vicenda è che gli stessi temi noi li abbiamo anche portati in aula e abbiamo avuto spesso il voto contrario di chi si sbraccia per sostenere una o l'altra azione di questa natura. Bisogna avere coerenza, non si sbandiera, non si usano i referendum allo scopo di tirare un tema nelle piazze. I referendum sono l'ultima razza, ma quando si sta all'interno di un governo, quando si può ottenere una maggioranza numerica su alcuni temi, per esempio quelli della giustizia, paradossalmente, il centrodestra, più Italia Viva, più Calenda, che si spendono su alcuni di questi temi, più alcuni deputati di area radicale, potrebbero avere anche la maggioranza in aula per far passare gli stessi provvedimenti, anzi, lavorare non come agisce il referendum in termini abrogativi, ma in termini anche propositivi, e quindi avere una normativa più completa. Ovviamente, però, sui referendum, su cui abbiamo espresso parere favorevole, noi voteremo a favore, e al referendum sul quale non siamo d'accordo, daremo un voto contrario. Detto questo, il centrodestra è una realtà in Italia consolidata, fatta di elettori. Io quando parlo di centrodestra, parlo sapendo che il centrodestra ce l'ho davanti, non ce l'ho dietro le spalle come sigla, ce l'ho davanti con persone che hanno una storia, hanno una cultura, vogliono vedere affermati i loro valori, i loro interessi legittimi, alternativi a quelli dell'area progressista. E allora, il centrodestra qualcuno lo dovrà rappresentare. Noi ci siamo, speriamo che ci tornino tutti. Bene, grazie come sempre a Francesco Lollobrigida. Ciao.